Il mercato lo chiede, Jesu lo risponde affinando i servizi per ospitare umani accompagnati dagli amici a quattro zampe. Alla Bau Beach, spiaggia dove i pelosi possono fare il bagno con il resto della loro famiglia e crogelarsi al sole, ai Pet Hotel si affianca da quest'anno la Pet Community, una rete di servizi ad hoc per chi ha cani, gatti e conigli. Adesso siamo diventati un club che comprende residence, che comprende una marina, agenzie immobiliari, bar, ristoranti e pizzeriere, proprio per offrire una vasta qualità di servizio e di possibilità a chi viene in vacanza col proprio cane. Ci sono delle strutture appartenenti a questo club che hanno creato degli allestimenti su misura con prodotti di qualità, Comodog, che possono essere tranquillamente abbinati a una camera standard o addirittura a una suite. L'esigenza del mercato, oggi praticamente una famiglia su due ha un animale d'affezione, si deve muovere quasi necessariamente con l'animale stesso perché comunque è parte integrante della famiglia e quindi è un mercato floridissimo, un mercato che è alla ricerca di servizi ed è un mercato che andrà sviluppato nei prossimi anni necessariamente perché è una nicchia assolutamente in crescita. Novità anche per la Bau Bau Beach. Il servizio Navetta è legato naturalmente ai pet hotel, quindi agli atter convenzionati con la nostra spiaggia e permette anche agli alberghi leggermente più distanti dalla nostra spiaggia di poter usufruire del servizio di bus Navetta gratuito dall'albergo alla nostra spiaggia e ritorno e così anche i nostri amici, i nostri clienti sono belli soddisfatti. Le strategie d'impresa che sono la base delle buone performance del turismo in Veneto seguono evidentemente la linea di rispondere sempre di più ad esigenze di nicchia. La specializzazione ripaga. Attenzione agli animali, abbinata però anche ad un obiettivo benefico. Questa attenzione al sociale, al sociale locale, perché è un'associazione comunque della nostra città, diciamo ci permette di fare del bene ai nostri ragazzi, quindi non possiamo che esserne orgogliosi.